Il manto stradale di Cerveteri è in pessime condizioni. Il gruppo locale di Forza Nuova chiede le dimissioni del sindaco. A Cerveteri, dopo l'arrivo del crateri di Eufronio, con le prime piogge sono ritornati i famosissimi crateri del sindaco Pascucci. Utilizza l'ironia il gruppo locale di Forza Nuova per dare risalto al dissesto stradale che coinvolge ormai tutto il comune. Già ci siamo occupati della condizione di degrado della pavimentazione del centro storico con la nostra azione San Pietrino Cerca Casa, dichiara il responsabile del movimento Matteo Barone. Ma ormai le buche stanno dilagando in tutto il territorio. I cittadini sono in subbuglio, il web è saturo di appelli e lamentele. D'altra parte l'amministrazione non sembra in grado di gestire la situazione. Il rischio di incidente e il pericolo di gravi lesioni che corrono ogni giorno pedoni e ciclisti è altissimo. La situazione è diventata insostenibile e la soluzione è solo una, concludono i rappresentanti di Forza Nuova, che Pascucci liberi la nostra città dalla sua incapacità dando le dimissioni.